Ben trovati, andiamo a vedere i dati di oggi relativamente al coronavirus partendo dai dati nazionali. C'è un leggero calo della diminuzione dei ricoverati 0,3 per cento in meno rispetto allo 0,6 di ieri. Si mantiene nelle medie il numero di ricoverati o meglio della diminuzione dei ricoverati di terapia intensiva che oggi scende del 3,3 per cento, ieri era del 3 per cento, l'isolamento cresce dello stesso numero 3,3 per cento, ieri era più 3,6 e poi gli attualmente positivi che sono saliti del 2 per cento, i dimessi guariti del 6,8 per cento, diciamo che la media si attesta sulle medie solite, questi numeri sono gli stessi numeri presso a poco di ieri. Andiamo a vedere invece quello che è successo in Sardegna con i dati relativi a oggi regione per regione, andiamo subito a vedere i numeri della Sardegna che ci permettono di verificare cosa è stata la giornata odierna. 676 i tamponi fatti quest'oggi, ogni 24 uno positivo, quindi 28 casi in tutto, i contagi sono saliti a 1.091, come abbiamo detto quindi si tratta di un aumento di 28 unità e i totali di tamponi 10.120, come abbiamo detto 676 in più rispetto a ieri. Anche da qui possiamo trarre le stesse conclusioni, gli attualmente positivi sono cresciuti di 12, sono 888, sono 28 le persone in più, i ricoverati con sindomi sono 113, sono 6 in più rispetto a ieri, 1 in meno in terapia intensiva, anzi 2 in meno in terapia intensiva, ieri erano 26, oggi sono 24, 751 invece di isolamento domiciliare, sono 8 persone in più in isolamento domiciliare, sono cresciuti anche i decessi, 4 decessi quest'oggi, 5 erano stati ieri, 5 erano stati l'altro ieri, quindi decessi in riduzione, come vedete il dato si è assuntivo sotto, positivi 12, qualiti 12, decessi 4 e totale contagiati cresciuti di 28. Andiamo a vedere anche la diffusione geografica per regione, con la Sardegna che sta sempre al di sopra di 1000, ma che ha una diffusione decisamente inferiore rispetto soprattutto alle regioni del nord, lo vedete dalla dimensione del cerchio, così solamente le regioni con bassa densità di popolazione, quelle soprattutto interne protette dalle montagne e andiamo a vedere anche provincia per provincia di quanto è cresciuto. Variazione giornaliera, in provincia di Cagliari ci sono 6 nuovi casi, i contagi sono saliti a 185, 2 nuovi casi nel suo Sardegna, 82 ora il totale, 2 nuovi casi nella provincia di Oristano, 0 casi ancora una volta nella provincia di Nuoro che continua in questo dato e in provincia di Nuoro si chiedono come mai stiamo chiusi, sono 4 giorni che noi non ne abbiamo contagi e bisognerebbe chiederlo a chi governa. E qui invece il dato di Sassari che si conferma molto più basso rispetto a due giorni fa, si è tornato intorno ai 17-18, erano 17 ieri, 18 oggi, mentre 3 giorni fa erano stati ben 35, un altissimo numero. Quindi dati tutto sommato rincuoranti che dimostrano ancora di una diminuzione della diffusione del virus e soprattutto una diminuzione dei casi in terapia intensiva che sono scesi a 24, questo è il dato che ci sta più a cuore. Ci vorrebbe adesso lo 0 casi di morti giornaliere per poter essere veramente contenti. Speriamo che possa essere questo il giorno giusto, una Pasqua felice per tutti, mentre nella situazione che possiamo vedere nella variazione giornaliera ci rendiamo conto che si sta acquietando in quanto per quanto riguarda l'Italia, la Francia invece ha una crescita del 6% con i contagiati che sono arrivati a 124 mila, anche in Portogallo la situazione sta crescendo più 10% e guardate la Bielorussia dove non funziona più la vodka, i casi sono cresciuti del 33%, anche se il numero 83 di contagi è decisamente basso. Anche l'Ucraina sale del 16,4%. Dati preoccupanti adesso in Irlanda, è arrivata anche in Irlanda il 23%, i casi comunque sono ancora 8.089, 1515, quelli di oggi. Numeri quindi della Sardegna proiettati e confrontati col mondo che ci rincuorano perché rispetto a molte regioni del mondo la Sardegna è in netto calo e da giorni ha numeri che potevano certamente portare anche a una riapertura graduale del nostro territorio. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata, l'appuntamento chiaramente per domani, domani ci troveremo ancora per poter parlare di questi dati. Grazie.